Sì, anche loro, anche la famiglia, anche tutta la squadra, io penso che è stato un bel giro, abbiamo fatto tutto per vincere, ma è andato così, comunque penso che è un bel risultato, essere sul podio. Si è fatto il primo o il secondo, io penso che è storico quello che si è fatto in questo giro 2014. Io voglio ringraziare a tutti quello che hanno fatto, a tutti quelli che ti fanno qua. Grazie. 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 Grazie.